Sai qual è l'errore più grande che fanno i trader nel money management, che li porta a perdere soldi invece di portare a casa profitti? Salve a tutti, Marco Casario qui e oggi voglio andarti a parlare velocemente di un concetto semplice, quanto estremamente sottovalutato da parte dei trader, soprattutto quelli un po' più giovani, quelli che hanno ancora poca esperienza, 1, 2, 3 anni di esperienza. Però mi sono reso conto, parlando con tanti tanti trader, tra ovviamente gli studenti del mio corso, quelli che poi cominciano a diventare trader, tutti quelli che mi fanno le domande qua sul canale, uno degli errori che si fa è quello di, nel money management, della gestione del capitale, o meglio nel ramo del money management che si chiama position sizing, quindi quando si apre un trader si decide la dimensione della posizione con cui entrare, in base al modello di money management, in base al profilo di rischio e quindi si decide di entrare con un contratto, due contratti, cinque contratti, eccetera. Bene, l'errore è questo ragazzi, è che quando si, questo viene fatto, questo errore viene fatto soprattutto a chi fa intraday trading, quindi chi fa scalping, chi fa trading tutti quanti i giorni, quindi chi apre e chiude posizioni nell'arco della giornata. L'errore è il seguente, quando si prende una striscia negativa e magari si comincia a perdere, si hanno, si cominciano ad avere uno, due, tre, quattro trade che vanno in perdita, si aumenta il position sizing. Perché? Perché che scatta nella testa del trader poco professionista? Che vuole recuperare, vuole recuperare quello che ha perso e quindi gli scatta emotivamente questa voglia di riscatto per poter chiudere la giornata, la settimana o il mese in profitto e non accettare le perdite. Ragazzi, come più volte vi dico, le perdite sono la strada fisiologica che vi porteranno al profitto se state facendo trading con strategie che sono testate nel tempo, applicando modelli di money management efficienti. Se questo è lo scenario, il contesto, le perdite tranquilli, accettatele, abbracciatele, perché sono quelle che a fine anno, se seguire le vostre regole, vi porteranno al profitto. Se invece vi fate prendere dall'emotività di dover recuperare, quando vedete una, due, tre perdite di fila, quattro perdite di fila e per recuperare velocemente, no? Quello che scatta nella testa, lo so perfettamente perché parlo con tantissimi trader, è quello che mi dicono è, cavolo, nella testa mi scatta questo. Quando vedo che perdo, poi apro un nuovo trade, magari il quarto della giornata, della settimana o del mese e dico, adesso con questo trade andrò a recuperare le tre perdite che ho fatto prima. E allora che cosa fanno? Aumentano il position sizing e sballano completamente il modello di money management che avevano scelto. Perché? Perché aumentano il position sizing? Perché ovviamente per guadagnare di più, nel caso in cui vada in profitto quell'operazione per recuperare le tre in perdita, devono rischiare di più. Ricordatevi sempre, ragazzi, che il profitto e il rischio fanno parte della stessa manopola. Se girate la manopola del profitto perché volete guadagnare di più, più velocemente, state automaticamente aumentando il rischio a cui vi esponete per quel singolo trade. E quindi l'errore che si fa è che poi, solitamente, perché magari è normale, si fa la scelta sbagliata, si aumenta il position sizing e quell'operazione va in perdita. Che cosa succede? Che siete fregati. Siete fregati perché non solo avevate la striscia negativa di perdite fisiologiche normali, ma in quell'operazione che, sì, è andata in perdita ed è fisiologica anche quella perdita, sarebbe stata normale, ma avete perso di più di quello che dovevate. Ragazzi, a fine anno tutti gli studi sul trading, sui trader che sono in perdita, e come sapete più del 90% dei trader a fine anno va in perdita, lo sapete perché? Non perché perde più operazioni degli altri trader che invece vanno in profitto, no, perché sbaglia il position sizing e il money management. Non è il rapporto di operazioni vinte su operazioni perse. C'è uno studio che avevo fatto vedere nel mio canale, fatto da un broker molto famoso, molto grande, che quindi ha anche un bacino grande di trader da studiare, che i trader che vanno in profitto rispetto ai trader che vanno in perdita a fine anno, hanno praticamente lo stesso numero di operazioni vinte rispetto a operazioni perse. Quindi non vuol dire che i trader che vanno in profitto hanno più operazioni vinte e meno operazioni perse. No, è solo, è tutto quanto money management e position sizing. Quindi ragazzi, vi dico invece di fare il contrario, lo sapete che cosa dico ai miei studenti dei miei corsi? I primi anni di trading fate esattamente il contrario di quello che la vostra testa vi dice, ovvero aumento la posizione per recuperare le perdite precedenti? No, la diminuisco. Quando state affrontando una serie, una striscia si dice, uno strike di operazioni in perdita, e quindi emotivamente vi sentite meno sicuri, avete anche, vi sentite che volete, l'avidità no, che volete recuperare velocemente le perdite, non aumentate, diminuite. Quello che, il consiglio che do io è, dimezzate il position sizing. Quindi se per esempio il vostro profilo di rischio è dell'1% sui trade, avete preso 3-4 perdite, fermatevi, dimezzate il profilo di rischio, portate il profilo di rischio a 0,5. E la domanda qui sorge spontanea, mi potreste dire, cavolo Marco, sì ok, però così facendo ci metto di più a recuperare. Ragazzi, nel fare trading non è la velocità con quale recuperate i soldi, è questo che vi frega, quello che frega i trader è che vogliono velocemente diventare ricchi, vogliono velocemente fare profitti, la velocità, arrivare velocemente al successo è quello che poi vi frega, è quello che poi vi frega e non vi fa andare in profitto nel lungo termine. Non pensate sempre al breve termine, non vi concentrate sulla giornata, sulla settimana, sul mese, e cavolo questo mese le mie performance sono state così e così, cavolo questo mese ho fatto il meno 2%, non fa niente. Io a volte ci sono due o tre mesi di fila in cui magari vado a break even, faccio l'1%, il 2%, a volte anche negativi li chiudo, meno 3%, meno 4%, il drawdown è normale, ma a fine anno vi dico, nella mia carriera non c'è stato un anno che ho chiuso in perdita. Quindi il consiglio di questo video è, se stare facendo quest'errore, cioè aumentate le posizioni, il size della vostra posizione per cercare di recuperare più velocemente, state sbagliando, ok? Quella è la ricetta per distruggervi. Fatevi il contrario, emotivamente vi tranquillizza anche, sì è vero ci potreste mettere qualche settimana in più a recuperare quello che avete perso, ma il trading si misura nel lungo termine ragazzi, non a livello settimanale, mensile, nemmeno annuale, nemmeno annuale. Quando fanno le statistiche sui migliori trader, i migliori hedge fund, secondo voi li fanno calcolando quanto quell'edge fund o quanto quel trader ha fatto in un mese? In un anno? No, lo si calcola negli ultimi 10, 15, 20 anni, è così. È quello il time frame su cui si misura un trader, perché il mese in cui siete fortunati, il mese in cui vanno, o l'anno in cui vanno tutte bene, ragazzi ci sono stati degli anni miei, personali, vi dico anche quali sono stati, 2012, 2013, 2014, sono stati tre anni incredibili, incredibili, che non ho mai più rifatto in termini di performance, perché facevo tanto trading sul forex all'epoca, tanto, e in quel momento c'era il quantitative easing in America, c'era il post 2008 negli Stati Uniti, c'è stato in Europa il quantitative easing fatto dalla banca centrale europea, che ha fatto praticamente crollare l'euro, ho fatto performance impressionanti, nemmeno ve le sto a dire, perché non voglio vantarmi, ma voglio raccontarvi il fatto invece, è che se doveste valutarmi come trader in quei tre anni, io sarei probabilmente uno dei trader migliori al mondo, dico per dire adesso, perché ho fatto performance importantissime, che poi non ho mai più rifatto, ho fatto sempre performance più basse, magari torneranno quelle performance, magari tra cinque anni farò performance più alte, perché le mie strategie, la mia conoscenza del mercato, del resto sono, adesso ho maturato anche molto più esperienza, ecco perché sto aspettando questa recessione economica, perché quella sarà una recessione in cui finalmente, in quella del 2008 ragazzi, ero ancora troppo junior, poco maturo come trader, ma quando arriverà questa vi assicuro che sarò molto pronto e sono sicuro che riuscirò a monetizzarla molto molto bene come performance, ma per dirvi, i traders si misurano nella lunga distanza, e fate anche voi, entrate in quest'ottica, quindi il mio consiglio di oggi è, non fate l'errore del position sizing, di aumentarlo, ma fate il contrario, se state facendo trading da poco, uno, due, tre anni, fate il contrario, dimezzate, vi assicuro che emotivamente, scusate il mio telefono, emotivamente cambierà radicalmente il vostro approccio, come vi sentirete, scomincerà, perché alla fine il trading è questo, no? È la lotta tra le vostre emozioni e i grafici, perché tanto le strategie, il trading plan, quella è matematica, il money management, quella è statistica e probabilità, ok? Quindi quello è tutto scritto, il resto invece è emozioni, e dovete limitare questa parte di emozioni, la dovete chiudere in una gabbia e rimpicciolire, per rimpicciolirla, questa del taglio del position sizing quando perdete invece che quando vincete vi aiuterà, e fate il contrario, magari, quando diventate trader più esperti, quello che faccio io è che quando invece sono in un momento positivo, allora è lì che aumento un pochino il mio profilo di rischio, perché? Perché alle spalle magari ho 5, 6, 7 profitti, quindi è un momento buono, aumento un po' il position sizing perché mi posso permettere di rischiare un pezzettino in più, quindi invece magari di rischiare l'1% ad operazione, rischio l'1,5% ad operazione, perché comunque ho, diciamo, i profitti alle spalle di fila che possono permettermi di rischiare un pochino di più, perché magari in quel momento quella strategia si sta esprimendo meglio e quindi potrei aumentare così un po' il profitto, ma attenti fatelo solo quando siete molto molto esperti. Ragazzi lasciatemi qui sotto un commento per dirmi se anche voi, ed è normalissimo, non vi dovete vergognare, anzi ditelo e condividetelo perché condividere aiuta voi stessi, aiuta gli altri, aiuta questa community, ragazzi è la community più grande d'Italia per quanto riguarda investimenti e trading, e non ci sono solo io, ci sono tante persone che scrivono e rispondono ai commenti, e sono sicuro che questi commenti aiutano tante altre persone che li leggono. Iscrivetevi al canale per rimanere sempre aggiornati, noi ci vediamo prestissimo, grazie mille per l'attenzione, buon trading a tutti, ciao!